Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram. Detto questo, diamoci dentro quel video. Mi avete consigliato questo caso sul Google Docs e onestamente sono rimasta sbalordita da questa storia. Non vi dico nient'altro perché secondo me è molto interessante seguire questo caso passo per passo. Ci sono stati diversi colpi di scena. È il 30 gennaio del 2008, sono le 2.07 di notte e ci troviamo a Durham, nel North Carolina, quando Kimberly Parker riceve una chiamata da una sua cara amica di nome Latrice Curtis. Latrice non è solita chiamare a tarda notte. A Kimberly quella chiamata sembra strana, quindi decide di rispondere. Perché potrebbe effettivamente essere successo qualcosa alla sua amica. Quindi Kimberly risponde al telefono, ma non sente la voce di Latrice. Percepisce un gran movimento, sente sfrecciare delle macchine. È come se Latrice in quel momento si trovi vicino all'autostrada. Kimberly pronuncia il nome della sua amica per minuti interi, ma non riceve mai risposta. Quindi dopo circa 4 minuti riaggancia la chiamata e torna a dormire. Arriviamo alle 7.12, passano 5 ore dalla chiamata che Kimberly ha ricevuto. Quando David Jones, un testimone oculare, sta guidando sull'interstatale 540 per recarsi ad una riunione di lavoro. Fino a quando nota qualcosa sul ciglio della strada. David a questo punto sente il bisogno di fermarsi. Vuole vedere assolutamente cosa sia quel qualcosa che ha notato sul lato della strada. L'uomo quindi ferma la macchina, esce dalla vettura, si avvicina per vedere meglio e rimane senza parole. Chiama la polizia dicendo che si trova sull'interstatale in direzione ovest, subito dopo l'uscita per Baffalo. E crede ci sia un corpo senza vita sul ciglio della strada. Quando la polizia arriva sul posto, trova il corpo di una ragazza senza vita, quasi in cima ad un terrapieno che costeggia l'autostrada. È stata accoltellata così tante volte che il sangue è colato via. Questo è sicuramente un omicidio doloso, per via del numero di ferite da taglio presenti sul suo corpo. In pratica, non volevano solo ucciderla, volevano massacrarla. A meno di un chilometro di distanza, sempre all'autostrada, i detective trovano un veicolo. Più precisamente una berlina, in cui all'interno sono presenti schizzi di sangue per tutto il sedile. E arrivano fino all'altezza del finestrino del conducente. In realtà il sangue è colato anche fuori dalla portiera, dal lato del conducente. È dunque evidente che quella ragazza, trovata sul ciglio della strada senza vita, sia stata uccisa in quella macchina. A questo punto la polizia fa un controllo sulla targa del veicolo, scoprendo che appartiene all'attrice Curtis. Ma ora facciamo un passo indietro, come al solito. Chi è l'attrice Curtis? Nasce il 28 maggio del 1986 a Rowley, nel North Carolina, da Sherman e Cynthia Jones. Quando è piccola, suo padre Sherman è solito chiamarla. Il mio metto in gonnella perché fa tutto insieme a lei. Vanno spesso insieme a pescare, una volta sono andate insieme a caccia. Sherman le insegna tutto ciò che sa sul basket. E l'attrice è davvero molto molto legata a suo padre, lo adora. È chiaro però che quando inizia a frequentare il liceo, le cose cambino. L'attrice incontra nuovi amici, scopre lo smalto sulle unghie e inizia ad acconciarsi i capelli. Quindi pian piano si allontana dal padre, almeno per quanto riguarda le attività che condividevano. L'attrice a questo punto non va più a pescare con suo padre e non gioca neanche più a basket con lui. Perché come tutte le ragazze adolescenti non vuole rovinarsi lo smalto e l'acconciatura, insomma. Poi man mano che cresce la ragazza racconta sempre meno, si confida sempre meno. Ma i suoi genitori pensano che sia una cosa normale. Insomma, questa è una fase che passano tutti gli adolescenti. L'attrice non è affatto materialista, al contrario è una persona molto umile. È sempre sorridente e cerca sempre di confortare il prossimo. Ed è anche molto intelligente. Frequenta il Burnett College a Greensboro. Poi frequenta il Wake Technical Community College. Successivamente inizia a frequentare la North Carolina Central University, dove studia contabilità mentre lavora come commessa part-time al Triangle Town Center Sears, che è una catena di grande distribuzione statunitense. Quando è al terzo anno all'università, nella primavera del 2007, più precisamente il 27 aprile sposa un uomo di nome Darin Curtis. C'è però un problema. Lo sposa senza dire nulla ai suoi genitori. A dirla tutta ai suoi genitori, Darin neanche lo conoscono quando sposa l'attrice. La ragazza prende questa decisione perché di base suo padre è un uomo molto, molto severo. Ed è convinta che non avrebbe mai approvato la loro unione. La verità è che l'attrice non vuole litigare con la sua famiglia perché ha trovato l'amore. Vuole solo seguire il suo cuore, è felice con Darin. Però, in effetti, il padre di Latrice, Sherman, dice di essersi arrabbiato da morire quando è venuto a sapere del matrimonio. Ed è più che comprensibile. Latrice e Darin ovviamente vanno a vivere assieme dopo il matrimonio. E la ragazza prova ad invitare i suoi genitori a cena diverse volte, durante i primi mesi di matrimonio, per sistemare le cose e tentare di riappacificarsi con loro del tutto. Chiariamo, non è che i genitori di Latrice le tolgano la parola. Sono sempre presenti se la ragazza li chiama o se ha bisogno di aiuto. Ma il loro rapporto è cambiato. Sono più freddi e distanti. In ogni caso, i genitori di Latrice non accettano mai il suo invito a cena. Non sono ancora pronti. Nonostante l'atmosfera un po' tesa, come già vi ho precedentemente detto, specialmente tra Latrice e suo padre, la ragazza continua a chiamarlo e lo fa praticamente quotidianamente. Non dice a suo padre nulla di allarmante, ma Sherman sente che sua figlia non è serena, non è felice, sente che vorrebbe dirgli qualcosa, ma è bloccata. È come se avesse paura. E forse la ragazza ha paura di dire che è infelice a suo padre, perché non vuole sentirsi rispondere frasi del tipo «Be Latrice, se ne avessi parlato in famiglia prima di sposarti, forse non saresti in questa situazione». Latrice non vuole sentirsi in colpa. e allo stesso modo non vuole mettere in agitazione i suoi genitori. Quindi, nonostante il suo matrimonio non sia perfetto, evita di parlarne. Anche perché dopo un po' di tempo Latrice capisce che nessun matrimonio è perfetto. Le coppie spesso litigano, spesso si lasciano per poi tornare insieme. È normale vivere alti e bassi in una relazione, non può sempre andare tutto rosa ai fiori. Darin, il ragazzo che Latrice ha sposato, è dolce, timido e anche piuttosto riservato. Presta servizio nella Guardia Nazionale e tutto sommato sembra l'uomo giusto per lei. Ora però facciamo di nuovo un balzo avanti e torniamo al 30 gennaio del 2008. Sono le 9.23 del mattino e il padre di Latrice sta ascoltando il telegiornale. Quando sente la notizia di un corpo trovato sull'interstatale 540, quel corpo chiaramente è coperto da un telo azzurro, quindi Sherman non vede nulla, ma sente che c'è qualcosa che non va. Ha davvero un brutto presentimento. Intanto la notizia di quel corpo ritrovato arriva alla redazione di Vral TV. Quando i cronisti arrivano sul posto si rendono immediatamente conto che si tratta di un caso molto serio. È presente il nastro per delimitare la scena del delitto. Sono presenti diversi investigatori e si vede chiaramente quel telo azzurro. E ahimè, tutti sanno che sotto a quel telo c'è un corpo senza vita. Ad un certo punto, durante la mattinata emerge che il marito di Latrice, Darin, aveva denunciato la sua scomparsa poco prima del ritrovamento del corpo. Quindi c'era questa chiamata al 911 fatta da Darin in cui diceva che lui vive a Rowley, ma sua moglie frequenta la North Carolina Central University e quella notte non è tornata a casa. L'ha sentita per l'ultima volta proprio la sera prima. Latrice era in macchina, aveva la radio accesa e aveva detto a Darin che si sarebbe fermata a prendere qualcosa da mangiare. Il corpo di Latrice presenta in tutto una quarantina di coltellate. Alla testa, al collo, al torace. Sherman, dopo aver visto la notizia al telegiornale, prova immediatamente a contattare sua figlia Latrice, ma non riceve risposta, quindi prova a contattare suo marito Darin. Ma neanche lui risponde alle sue chiamate. Quindi Sherman contatta la North Carolina Central University, parla con una guardia di sicurezza la quale gli spiega che deve mettersi in contatto con l'ufficio dello sceriffo della Contea per poi raggiungerlo. Sherman e sua moglie quindi si mettono in macchina e guidano per raggiungere l'ufficio dello sceriffo della Contea di Durham. Arrivano verso le 11.30 circa. Una volta arrivati li fanno sedere in una stanza, lasciandoli soli. Dopo circa mezz'ora lo sceriffo li raggiunge, dicendo loro che il corpo della ragazza, ritrovato lungo l'interstatale 540, è stato identificato da suo marito ed è quello di Latrice. Contemporaneamente verso le 11.07 del 30 gennaio, quindi tre ore dopo il ritrovamento del corpo di Latrice, suo marito Darin viene interrogato. Durante l'interrogatorio Darin riferisce agli investigatori che Latrice lo aveva chiamato intorno alle 22 per dirgli che stava tornando a casa. Lui era a casa ma si era addormentato e si era svegliato verso le 7 del mattino dopo. Quindi aveva chiamato il 911 per denunciare la scomparsa di sua moglie alla polizia di Durham. Darin, secondo le forze dell'ordine, è un sospettato, anche se aveva agito in un modo appropriato per una persona nella sua situazione. Lui e Latrice vivevano insieme, quindi Latrice sarebbe stata l'unica persona che lo avrebbe visto e avrebbe potuto confermare il suo alibi. Anche se Darin non aveva un alibi, era ugualmente credibile. Inoltre aveva accettato che lo fotografassero, che gli prendessero un campione di DNA e le impronte digitali. E probabilmente sapeva anche di essere un sospettato. Per questo motivo era anche disposto a collaborare per le indagini. Intanto un'altra reporter di Vral TV si reca a casa di Darin per fargli qualche domanda. Però l'uomo non le apre la porta, quindi questa reporter parla con i suoi vicini. I vicini dicono chiaramente che non avevano idea che ci fossero problemi tra Latrice e Darin. Pensavano fosse una normale copia di sposini che lavoravano sodo. Sottolineano inoltre che non avevano mai visto né sentito nulla di strano. In tanti casi del genere il colpevole è il marito, quindi molti erano convinti che lui fosse il colpevole. Altrimenti perché avrebbe fatto quella telefonata nella stessa ora in cui era stato ritrovato il corpo? Forse per crearsi un alibi? Oppure questa era solo una coincidenza? Passate solo poche ore da ritrovamento di Latrice, c'è una svolta nelle indagini. In quanto un agente chiama un detective presente sulla scena del crimine per comunicargli che la notte prima aveva notato proprio quel veicolo fermo sul ciglio della strada. Ossia, una berlina. Più precisamente l'agente di polizia stradale del North Carolina si era fermato sull'autostrada intorno all'una e un quarto di notte perché aveva visto due vetture al margine della carreggiata. La prima era un minivan. Aveva le quattro frecce accese, i tergi cristalli in funzione e i finestrini erano scheggiati. Poi aveva visto un'altra auto, ossia una berlina bianca. Si stava avvicinando per dare un'occhiata ma proprio in quel momento era stato chiamato altrove. Prima di andarsene però la gente aveva preso i numeri delle targhe di entrambe le macchine. La berlina apparteneva alla vittima mentre il minivan era intestato ad un certo Robert Reeves residente a Durham nel North Carolina. La domanda a questo punto è chi è Robert Reeves? Che collegamento aveva con l'attrice Curtis? Ebbene, Robert Reeves era un vescovo. Ricopriva un ruolo di alto rango e lavorava per la chiesa al Cedar International Fellowship a Durham e lo faceva anche diligentemente. Robert era un ottimo predicatore, era un ottimo insegnante. Si esprimeva benissimo ed era un ottimo organizzatore. Riusciva ad ottenere grandi risultati in tutto ciò in cui si metteva di impegno perché era brillante. Il padre di Latrice, Sherman, non ha idea di chi sia questo Robert Reeves. Non l'ha mai sentito nominare ma soprattutto non capisce come possa conoscere sua figlia. Latrice aveva 21 anni mentre Robert ne aveva circa 50. Che legame c'era tra loro? Si conoscevano? E in caso? Perché? Dove si erano conosciuti? Come si erano conosciuti? C'è da dire che Latrice andava tutte le domeniche in chiesa. Sì, ma non nella chiesa in cui predicava lui. Arriviamo alle 15. Sono passate nove ore dal ritrovamento del corpo di Latrice e il vescovo, Robert Reeves, viene interrogato. L'uomo sembra molto sicuro di sé, parla pochissimo e non tradisce alcuna emozione, neanche la rabbia. Dice che il suo soprannome è il vescovo. Così come per Darin lo fotografano, gli prendono le impronte digitali e prelevano un campione di DNA da confrontare con quello trovato sulla scena del crimine o meglio, nella macchina di Latrice. Robert dice alla polizia che la sera del 29 gennaio era andato in chiesa e poi era tornato a casa sua. Alla fine la polizia riesce ad appurare che ciò che lega Latrice e Robert è una persona o meglio, un ragazzo che di nome fa Stephen Randolph ed è il coinquilino di Robert, ossia il vescovo. Stephen è un giovane ragazzo single che frequenta la North Carolina Central University. Robert spiega ai detective che Stephen aveva iniziato ad usare il suo minivan perché la sua macchina era fuori uso. Inoltre aveva aggiunto che Stephen aveva una relazione con Latrice Curtis. Scoprire che Latrice aveva un amante è sorprendente sia per i detective che per gli amici della ragazza e infine anche per i suoi genitori. Ma nonostante la sorpresa iniziale i detective si rendono conto che questa è un'informazione importante. Magari Latrice si era ritrovata in una situazione di pericolo? Forse questa situazione di pericolo l'aveva creata proprio Stephen? Robert Reeves sostiene che quando aveva conosciuto Stephen lavorava in un autolavaggio. Aveva saputo che il ragazzo aveva bisogno di un posto dove stare. Quindi gli aveva offerto di abitare nel suo seminterrato ad un prezzo ridotto. Arriviamo al primo febbraio. Sono le 10 del mattino e sono passati due giorni dal ritrovamento del corpo di Latrice. A questo punto Stephen Randolph ossia il coinquilino del vescovo viene interrogato. Anche Stephen accetta di farsi fotografare accetta di farsi prelevare un campione di DNA e anche le impronte digitali. In realtà Stephen è un giocatore di basket alla North Carolina Central University ed essere un giocatore di basket in quel contesto è importante perché sei un giocatore di spicco nell'università. Stephen durante l'interrogatorio racconta agli inquirenti la sua relazione con Latrice. In pratica i due avevano solo dei rapporti intimi. Stephen sapeva che era sposata da poco ma lei non gli aveva mai raccontato molto del suo matrimonio. E a questo punto Stephen racconta che la sera del 29 gennaio lei era andata da lui. Avevano cercato di avere un rapporto ma non erano riusciti a concludere perché il preservativo si era incastrato dentro Latrice. Quindi lei se n'era andata mentre Stephen aveva lasciato l'appartamento che condivideva con Robert per passare la serata con degli amici. Stephen in realtà dice chiaramente di essere andato a casa dell'altra sua ragazza quella ufficiale insomma. Lì erano presenti altri suoi amici quindi alla fine era rimasto con loro per il resto della nottata. Quando i detective scoprono che Stephen è quello che si può definire un donnaiolo un Latin lover insomma la percezione che hanno di lui e il suo ruolo in questo caso cambia inevitabilmente forse l'attrice si stava attaccando un po' troppo magari era troppo appiccicosa quindi Stephen aveva fatto in modo di sbarazzarsi di lei per sempre mentre gli investigatori interrogano Stephen per capire se è in grado di avvalorare la sua versione e il suo alibi lui spiega ai detective delle cose davvero sorprendenti racconta che gli pneumatici della sua macchina erano stati squarciati a dicembre dell'anno precedente quindi poco più di un mese prima dell'omicidio Stephen però non aveva i soldi per sostituire tutti gli pneumatici costavano circa 200 dollari l'uno e lui non poteva assolutamente permetterseli ecco perché aveva iniziato a guidare il minivan del vescovo inoltre Stephen aveva ricevuto anche delle strane chiamate provenienti da un numero privato passava molto tempo con Vilma la sua fidanzata ufficiale e put a caso anche lei aveva iniziato a ricevere chiamate provenienti da un numero privato inoltre un giorno avevano squarciato le gomme della macchina anche a lei fuori da casa sua non era un'ipotesi troppo lontana dalla realtà che chiunque stesse molestando Stephen e la sua ragazza potesse anche aver attuato una vendetta oppure avere qualcosa a che fare con l'omicidio di Latrice ci sono tre uomini potenzialmente collegati in questo caso c'è Darren Curtis il marito della vittima che non aveva un alibi per quella notte la cui moglie aveva una relazione extracognugale c'è Stephen Randolph l'uomo con cui Latrice aveva avuto una relazione a dirla tutta non sembrava avere un vero movente e infine c'è Robert Reeves l'uomo la cui auto era sulla scena del delitto ma qual era il suo reale legame con Latrice in base a ciò che gli inquirenti sanno qualcuno non sta dicendo la verità qualcuno sta mentendo poi il 2 febbraio del 2008 tre giorni dopo il ritrovamento del corpo di Latrice Robert Reeves viene arrestato e accusato dell'omicidio premeditato di Latrice Curtis ovviamente i colleghi di Robert sono increduli non avevano mai pensato fosse una persona violenta questa situazione però rende più consapevoli i colleghi di Robert che diventano più guardinghi non solo verso la loro cerchia ristretta bensì verso le persone in generale quando Robert viene arrestato si dichiara sempre innocente non confessa mai di aver fatto alcunché ma i detective hanno i risultati del DNA la macchina di Latrice era piena zeppa del suo sangue ma i risultati delle analisi del DNA indicano senza ombra di dubbio che il colpevole è Robert perché ha lasciato il suo DNA sul volante della macchina di Latrice per molti non aveva senso che fosse lui il colpevole insomma non aveva un legame diretto con la vittima e questo era davvero molto frustrante per la famiglia di Latrice perciò c'era grande aspettativa in vista del processo la gente pensava che forse avrebbe avuto le risposte alle domande che si ponevano da tantissimo tempo qual era il motivo per cui Robert aveva ucciso Latrice qual era il movente intanto il 23 maggio arrivano i risultati dell'autopsia Latrice in effetti aveva un preservativo dentro le coltellate che ha ricevuto sono circa 40 ha ferite alle mani alla testa al collo al torace e allo stomaco il processo a carico di Robert Reeves si apre il 29 settembre del 2009 le prime parole che pronuncia il pubblico ministero sono esattamente queste questo sì che sarà un caso singolare è un caso molto complesso e credetemi si rivelerà molto strano il procuratore distrettuale è teso ma è consapevole che non avrebbero potuto indagare più di così avevano tutto ciò che si potesse avere su questo caso e anche di più a questo punto l'accusa voleva che i giurati vedessero la vittima prima dalla prospettiva di Darin suo marito in modo che potessero farsi un quadro ben preciso di chi fosse l'attrice insomma l'attrice era una ragazza allegra amorevole era una grande studiosa e una grande lavoratrice questa era la vita che Darin conosceva e che l'attrice mostrava specialmente alla sua famiglia ma per lei esisteva anche un'altra vita a questo punto tocca a Steve Randolph deporre e dice che Robert Reeves voleva che si trasferisse a casa sua voleva davvero aiutarlo ma poi Steven aveva iniziato a vedere anche un altro lato di lui questa è la menzogna peggiore per uno che pretende di essere un uomo spirituale Robert non era stato sincero con Steve Randolph sul perché lo volesse come coinquilino e questo è stato solo l'inizio di questa vicenda nel dicembre 2007 un mese prima dell'omicidio di Latrice Robert aveva iniziato a chiedere a Steven se gli andasse di far parte di un giro di escort la prima volta che glielo aveva proposto per un brevissimo istante Steven aveva preso in considerazione l'idea magari in questo modo avrebbe potuto guadagnare un po' di soldi quindi Robert gli aveva detto testuali parole bene allora devo vedere il tuo strumento di lavoro Steven quindi si era abbassato i pantaloni e a quanto pare Robert aveva iniziato a palpare e toccacciare in modo inappropriato Steven a quel punto Steven gli aveva detto basta levami le mani di dosso che so benissimo cosa sta succedendo qui non sono mica scemo e in effetti Robert se ne era andato però Steven si sentiva incredibilmente a disagio era così tanto a disagio che aveva chiesto al suo cugino di prestaregli una pistola da tenere sotto al cuscino inoltre tentava in tutti i modi di dormire il meno possibile da Robert c'è da dire che Robert dal canto suo era tornato alla carica più di una volta aveva provato ad invogliare Steven in vari modi dicendogli ad esempio che gli avrebbe fatto un super sconto sull'affitto e ciò sicuramente avrebbe reso la vita molto più facile a Steven insomma provava a fargli vedere la cosa da vari punti di vista perché era ben consapevole che Steven non era gay né bisessuale bensì eterosessuale quindi diceva cose del tipo dai se chiudi gli occhi non ti accorgi neanche se è un uomo o una donna ma Steven alla fine aveva fatto capire a Robert che non l'avrebbe mai fatto per i colleghi di Robert è stata dura scoprire che l'uomo non solo andava dietro agli uomini giovani ma lo faceva anche in modo aggressivo nessuno aveva mai visto quel lato di Robert aveva ingannato moltissime persone per un vescovo poi commettere un crimine del genere è ancora più riprovevole perché fa sì che i fedeli dubitino di chi è la guida della loro chiesa peraltro grazie a questo caso emerge che Robert è stato un pastore per più di vent'anni e aveva affrontato diverse accuse per reati intimi nel South Carolina e a New York inoltre a Durham Robert si era dichiarato colpevole per aver ottenuto diverse proprietà con l'inganno nel settembre del 2005 secondo i registri del tribunale gli era stato ordinato di pagare 500 dollari e inoltre era stato per 12 mesi in libertà vigilata resta comunque un enorme punto di domanda qual è il movente? perché l'attrice è stata uccisa da Robert? gli investigatori finalmente scoprono una seconda linea telefonica quindi un secondo cellulare sempre intestata al vescovo e di cui lui guardate un po' non aveva fatto menzione lo soprannominano il telefonino del divertimento perché quella era una seconda linea che Robert utilizzava per fare tutte quelle cose che non voleva che gli altri sapessero uno degli elementi più importanti scoperti dai tabulati di questo secondo telefono era che da quel numero erano partite le strane telefonate moleste ricevute da Stephen e dalla sua fidanzata ufficiale Vilma inoltre quel telefono aveva agganciato le celle in cui erano state tagliate le gomme delle automobili alla luce di ciò la spiegazione più probabile è che avesse fatto di tutto per ostacolare la relazione tra Stephen e Vilma da questa monia di informazioni emerge sicuramente il fatto che Robert conducesse una doppia vita era un vescovo e al tempo stesso era un b****atore Robert in realtà ha ucciso l'attrice perché la ragazza era di ostacolo per la relazione che lui si aspettava di avere con Stephen ma che chiariamo non avrebbe mai avuto quindi la notte del 29 gennaio dopo che Stephen e l'attrice avevano provato ad avere un rapporto lei se ne era andata per tornare a casa dal marito che era circa mezz'ora di macchina da lì si era fermata un attimo perché aveva il preservativo ancora incastrato dentro non poteva di certo andare a casa e rischiare che il marito se ne accorgesse Robert la seguiva e probabilmente aveva approfittato di questa sosta forse l'aveva avvicinata dicendo che era un vescovo forse le aveva detto che sapeva che era sposata e che faceva anche le cose con Stephen quindi forse le aveva detto in conclusione che poteva aiutarla a redimersi Dio l'avrebbe aiutata a redimersi se avessero pregato insieme a questo punto l'attrice ovviamente aveva abbassato la guardia perché in effetti si era trovata davanti un vescovo e ahimè lui a questo punto aveva iniziato ad accoltellarla insomma ci sono tantissime prove sul fatto che Robert avesse dei problemi seri aveva una cotta per Stephen che tra l'altro era un Don Giovanni e era uno sciupa femmine inevitabilmente Robert vedeva ogni donna nella vita di Stephen come una minaccia per lui e per una potenziale relazione tra lui e Stephen Robert viveva due vite parallele e le sue bugie avevano continuato ad accumularsi fino a sfociare in questa terribile violenza il 9 ottobre 2009 Robert viene riconosciuto colpevole di omicidio volontario e condannato all'ergastolo senza condizionale onestamente l'attrice sembrava una persona adorabile e il modo in cui suo padre parla di lei è dolcissimo è vero gli anni sono passati il suo dolore però è rimasto immutato Robert a mio avviso sembrava si fosse inventato una relazione con Stephen che però era solo nella sua testa era così geloso di l'attrice e dell'altra ragazza di Stephen pensava che con le ragazze di Stephen fuori dai giochi si sarebbe rivolto a lui e si sarebbe messo con lui tuttavia Stephen era enormemente a disagio non posso che concludere dicendo che Robert ha ingannato davvero una miriade di persone e secondo me è giusto che sia in prigione anche perché non ha mai ammesso di aver commesso questo omicidio di conseguenza non si è mai dimostrato pentito e stiamo parlando di un vescovo detto questo ragazzi e ragazzi ho finito di parlare in questo video vi ripeto questo caso mi ha davvero lasciata alquanto basita perché non immaginavo lontanamente che in mezzo ci fosse un vescovo non era neanche nell'anticamera del mio cervello ma voi cosa ne pensate di questo caso fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti lo conoscevate già io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure perché continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti mi raccomando Grazie a tutti.